Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qui per parlare del cosiddetto grande problema dell'umanità. Questo problema ci limita, questo problema anziché far evolvere le menti collettive non fa altro che farle regredire. Di che cosa starò mai parlando? Dell'odio. Allora, oggi volevo, con l'aiuto di questo libro di cui vi voglio parlare, che voglio tra virgolette leggervi, ovviamente soltanto le parti più importanti, di quelle che vanno a toccare proprio l'animo. Innanzitutto questo è un libricino di David Icke che si intitola Sei libero, perché non te ne accorgi? E in questo, diciamo che in questo libricino lui si sofferma soltanto su quella che è la nostra coscienza, su quelli che sono i nostri problemi, su quello che dovremmo risolvere, no? Con noi stessi, perché poi alla fine quello che noi pensiamo di noi stessi lo riversiamo anche un po' sugli altri e questa è una cosa vera. E proprio oggi volevo cominciare ad analizzare questo libricino e anche di conseguenza trasmettervi il bellissimo messaggio che racchiude proprio partendo da il più grande problema dell'umanità, l'odio. Allora, se questa energia ancora ci manipola, se questa energia è ancora così presente ed influenza le nostre vite, è proprio a causa dell'odio. Io in passato registravo video quando, per esempio, venivo insultata, quando anche i miei genitori venivano insultati, anche se voglio dire, i miei genitori, nessuno, no? Si dovrebbe permettere di, questo era il mio pensiero, di ovviamente insultare i miei genitori. Fondamentalmente sono persone che non conoscete, sono persone buone, quindi come vi permettete, vi ricordate in passato quanti video ho fatto di questo genere, però poi col passare del tempo, andandomi ad approcciare anche a diverse letture che mi hanno ovviamente ampliato la visione, ho capito tanto. Ho capito che non devo più prendermela quando una persona, me cara, viene in un certo senso insultata. Innanzitutto perché a me l'insulto ormai non provoca più nessuna reazione, soprattutto se proviene da una persona che nutre odio nei confronti di se stessa. Allora, questo ragazzi è un atteggiamento che io le persone che vanno a ridossare il loro odio su di me, non le odio. Ho imparato a non odiarle, anzi, le compatisco e auguro a tutte queste persone di far emergere il buono che è in loro, perché sicuramente in queste persone del buono c'è, no? E' solo che odiando loro stesse come fanno ad amare gli altri, no? Quindi provano sempre questo odio, invidia, perché l'invidia, ragazzi, anche questa nasce da un odio che noi abbiamo nei confronti di noi stessi, del nostro aspetto, della nostra condizione economica, eccetera, eccetera. Oggi volevo cominciare ad affrontare questi pensieri più profondi e andare a capire il nostro problema e come cercare di risolverlo. Questi video sono dedicati a tutte le persone che dal punto di vista individuale vogliono intraprendere un percorso di elevazione. Al termine di questo percorso e delle cose più importanti che avrò condiviso da questo libricino, alcuni di voi sicuramente si sentiranno alleggeriti e alcuni di voi probabilmente riusciranno a trovare la loro strada per l'evoluzione. Attenzione, l'evoluzione dell'animo, dello spirito, della supercoscienza, chiamatela come volete, ma io sto parlando adesso non alla vostra identità. Sto parlando a ciò che il vostro corpo umano racchiude e quindi quello che voi siete realmente. Quindi, non sto parlando al tizio o alla tizia di turno, ma sto parlando alla vostra coscienza e quindi questi video non saranno di certo rivolti a tutti quanti, ben pochi li potranno comprendere, ma a me va bene così. Perché se anche, insomma, mi va bene così, non importa il numero, ma l'importante è far arrivare questi messaggi a quante persone, insomma, a più persone. Questa è la cosa che a me importa. E quindi, volevo insieme a voi affrontare questa tematica, perché penso che potrà, senza ombra di dubbio, farvi ragionare molto su quello che sta accadendo e su quello che è il vero problema dell'umanità e quindi l'odio. Vi leggo proprio brevemente, perché questo libro è veramente breve e anche i capitoletti sono molto, molto brevi, ma i messaggi che racchiudono sono così forti che sembrano delle cose banali, ma in realtà si comprende tanto. Ama te stesso, ama il mondo. Grazie a profonde esperienze ho potuto notare come le persone proiettino costantemente nel mondo ciò che pensano di se stesse. Ho visto persone esteriormente aggressive sfogare sul loro prossimo l'odio che provavano interiormente verso se stesse. Le vittime in questi casi non sono che dei semplici specchi contro i quali queste persone si scagliano con tutta la loro rabbia, frustrazione, avversione e persino disprezzo per ciò che sono e sono state. E' questo ciò che realmente spinge a tanta violenza, a tanta criminalità e a comportamenti negativi di ogni tipo. L'odio nei confronti di se stessi, ragazzi, è la peggiore bestia, è il peggior demone, è il mostro peggiore che tutti quanti noi dobbiamo o meglio dovremmo cercare di combattere. Io nel mio piccolo ci sono riuscita, perché prima non ero così, ragazzi, è il mio canale proprio una chiara, è una chiara, è un chiaro esempio di evoluzione, io non ero così, me la prendevo anche per una sola parola, ma come vi permettete, ma non dovete, non dovete. Adesso invece lascio fare, lascio fare perché ho capito che loro non è che offendono me, loro offendono loro stessi, perché l'odio che buttano su di me è l'odio che provano verso loro stessi e quindi se odiano loro stessi come fanno ad amare il prossimo non si può, non si può, perché altrimenti se non impariamo ad amare noi stessi nei confronti del prossimo in minima parte cominceremo a nutrire rancore, invidia, rabbia, frustrazione, eccetera, eccetera. Ad un certo punto i media riuscirono a convincere la gente che date le mie parole e qui racconta Ike dovevo essere pazzo, sicché alle mie conferenze pubbliche o universitarie molti venivano per prendermi in giro e ridere di me. Lui vi ricordo che sta ancora subendo molte cose negative ma è stato ospitato in tante trasmissioni, lui ci andava per esporre il proprio pensiero ma poi invece di esporre il proprio pensiero David Ike veniva deriso in questi programmi televisivi. Sta passando un elicottero. Ah, vabbè. Quindi lui è stato a lungo deriso. non comprendevano aggiunge che così facendo essi affermavano con decisione qualcosa riguardo a loro stessi non riguardo a me. Quanto più saggio sarebbe stato per loro se si fossero chiesti quale squilibrio interiore li spingesse a racimolare un po' di piacere e di soddisfazione deridendo uno che li tenevano pazzo? Effettivamente è così. Se io ad oggi so che una persona è pazza ok? Mica l'aderido non l'aderido mica. Se so che una persona ha un problema non l'aderido anzi vedete quanto sono instabili le persone che agiscono in questo modo? Dicono ad una persona sei pazzo e non solo lo dicono non solo lo credono insultano anche quella persona che secondo loro è pazza quindi si comportano in modo meschino e sono anche paradossali nel loro modo di agire. Quando non rispettiamo gli altri quando non rispettiamo gli altri stiamo semplicemente affermando che non abbiamo alcun rispetto per noi stessi. Quante volte avete notato che le persone provano rabbia e dolore verso chi rivela comportamenti simili ai loro? Quante volte di queste persone abbiamo detto se loro fanno così e così va bene ma li manda in bestia che qualcun altro si comporti allo stesso modo? Ciò che noi vediamo è la reazione di quella persona contro qualcuno che come uno specchio le rimanda precisamente i tratti del suo carattere che più odia e qui racconta e ci dice in un paio di occasioni quando la gente per strada rideva di me io e la mia famiglia ci siamo fermati e abbiamo riso a nostra volta di quelle persone riflettendo di conseguenza il loro comportamento per vedere che cosa sarebbe successo la reazione di queste persone era incredibile si arrabbiavano moltissimo e ne rimanevano sconvolti sconvolti scusate non sconvolti sconvolti perché si trovavano faccia a faccia con il loro stesso modo di agire capite cosa faceva Ike quando si trovava una persona che rideva di lui in mezzo alla strada lui si fermava e rideva di quella persona che rideva di lui ma quella persona si arrabbiava e mi chiedo perché ti arrabbi tu ridi di una persona ma se una persona ride di te ti arrabbi semplicemente Ike in quelle occasioni si è posto dinanzi a quella persona come uno specchio e quindi non ha fatto altro che riflettere il comportamento di quella persona che si è arrabbiata ma era la prima a comportarsi in quel modo so che sono dei discorsi un po' no complessi perché intricati se vogliamo anche se in apparenza però bisogna riflettere su questo quando vediamo gli altri esprimere ciò che non amiamo di noi stessi ci sentiamo estremamente a disagio e ciò che si manifesta come rabbia e atteggiamento di condanna nei loro confronti è in realtà rabbia verso noi stessi il problema dell'umanità in generale se non quello di ogni individuo è che invece di provare rispetto simpatia e amore per se stessi essa si odia l'umanità è immersa in un mare di sensi di colpa paura e scarsa considerazione di sé e il motivo di tutto questo va fatto risalire sia alle vite passate che a quella attuale questo senso di colpa questa paura e questo odio verso se stessi vengono espressi attraverso divisioni guerre conflitti su tutti i piani e nella convinzione che in qualche modo il successo materiale possa sopperire al buco nero spirituale ed emotivo che si espande come un cancro in così tanta gente è proprio l'odio che provano gli individui verso loro stessi che ad oggi scatena guerre rivolte violenze eccetera 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 e anche il razzismo visto che negli ultimi giorni ho più volte parlato di razzismo sul mio canale con spirituale non intendo religioso anche se i due termini vengono continuamente confusi per me spirituale indica il riunirsi alla coscienza una significa comprendere il nostro ruolo nel disegno eterno delle cose e il nostro infinito potenziale d'amore e di creazione la religione ha assorbito la spiritualità e ampiamente abusato del suo nome per erigere imperi fondati sul mito e sul potere elaborati e mantenuti in vita manipolando la paura e il senso di colpa perché a noi che cos'è che ci viene detto dal momento in cui nasciamo nasciamo col peccato e quindi se non rispettate la religione se non credete in quel dio voi finirete all'inferno non è così non è così tutti quanti noi siamo esseri spirituali immortali l'importante è cercare di sprigionare amore di sprigionare cose positive quindi anche se in un certo senso non provate adorazione nei confronti di una divinità non andrete a finire all'inferno ragazzi ma bisogna lavorare su se stessi per cercare di avere una condotta idonea nei confronti di noi e anche nei confronti degli altri perché se noi non seguiamo questo e comunque se noi non miglioriamo noi stessi dal punto di vista individuale il mondo non cambierà mai ragazzi mai cambierà mai noi dobbiamo contrastare l'energia negativa proprio con questo impariamo ad amare noi stessi credetemi chiamando voi stessi ragazzi il mondo vi sembrerà migliore anche le persone vi sembreranno migliori amiamo noi stessi la religione quindi vabbè ha assorbito la spiritualità e è ampiamente abusato quindi la spiritualità è la risposta mentre la religione in assoluto contrasto è parte del problema perché ci dice che se non fate una cosa andrete quello se non fate questa cosa finirete lì se non fate questa cosa sarete puniti eccetera eccetera quindi la religione in parte è il problema io parlo della necessità di rispettare e amare se stessi eppure la religione ci dice continuamente che abbiamo peccato e che dobbiamo sentirci colpevoli per ciò che siamo ho scritto o meglio ho sentito una signora cresciuta in un convento cattolico dire che ogni mattina veniva obbligata ad affermare nelle sue preghiere la sua indegnità l'intero sistema religioso economico e sociale è stato strutturato per farci sentire colpevoli pieni di paure indegni insoddisfatti o invidiosi e spesso ci sentiamo così e anche peggio è un sistema tremendamente distruttivo sia per la gente sia per il pianeta l'amore e il rispetto verso se stessi sono fondamentali per il benessere futuro della terra perché quelle energie talmente negative che abbiamo creato e continuiamo a creare con il nostro modo di considerare noi stessi e quindi gli altri hanno portato questo pianeta sull'orlo dell'annullamento ragazzi siamo noi che produciamo energia negativa e alimentiamo coloro che non dovrebbero essere alimentati come? con le guerre con i non rispettarsi con l'odio eccetera noi noi stiamo portando avanti il loro progetto e non ce ne rendiamo conto siamo noi i colpevoli di quello che accade noi e quindi qua non si dovrebbe tanto pensare a fare la guerra col forcone e il manganello si dovrebbe pensare a migliorare noi stessi la nostra individualità la nostra coscienza per vederla riflessa nel mondo c'è un aforisma che è vero sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo ed è vero è vero poi per ultimo ci dice noi invertiremo questo processo quindi il processo della negatività ma per fare questo abbiamo bisogno di comprendere la struttura nella quale viviamo e ci evolviamo dobbiamo pertanto renderci conto del modo in cui influenziamo l'equilibrio della terra e di tutti gli altri individui con ogni nostro pensiero il pensiero è energia noi siamo energia gli altri sono energia per cui vedetela così voi siete energia voi in quanto energia offendete perché anche le parole sono energia questo lo vedremo in un altro video perché è stato proprio condotto uno studio sull'acqua e l'acqua nel momento in cui riceveva vibrazioni negative aveva una forma mentre quindi una forma molto confusa caotica invece nel momento in cui riceveva vibrazioni positive aveva una forma più armonica e composta tutto questo vi fa capire che tutto quanto è energia ragazzi per cui noi se dal punto di vista energetico visto che siamo energia offendiamo e sfoghiamo il nostro odio su un'altra persona danneggiamo quella persona e danneggiando quell'uno quella persona danneggiamo la collettività quindi qual è la morale di questo video amare se stessi se si vuol vedere effettivamente un cambiamento nel mondo altrimenti ragazzi continuiamo ad odiare continuiamo a fare rivolte inutili e continuiamo così come stiamo facendo se invece ognuno di voi si impegna perché questa è una cosa che voi dovete volere perché se non la volete ragazzi è inutile se ognuno di noi si impegna a fare questo e ad amare noi stessi anche il prossimo vedrete che è cambiamento nel mondo ma dobbiamo farlo ora cosa ne pensate di questo video vi piacerebbe ascoltare altre cose proprio tratte da questo libro che è come una specie di libricino pieno di insegnamenti è un libro non di insegnamenti ma è un libro che ti fa veramente brevemente concentrare sulle cose più importanti perché noi a volte nella vita caotica piena di impegni non ci soffermiamo abbastanza ma effettivamente questo libro con dei piccoli con delle piccole frasi vi fa concentrare su quelle che sono le cose veramente più importanti da tenere in considerazione e quindi noi la nostra coscienza la nostra consapevolezza noi l'amore per noi stessi perché il più grande problema dell'umanità è l'odio l'odio ci logora ormai da secoli e purtroppo invece di sradicare questa negatività noi non stiamo facendo altro che alimentarla e crearla perché se noi ci odiamo che energia potremmo mai trasmettere negativa cosa ne pensate fatemi sapere il vostro parere se vi piace questa tematica se vi piacciono video di questo genere in cui ci andiamo a soffermare su quello che realmente conta ovviamente ci saranno anche video di attualità come sempre ovvio però ci tenete a video di questo genere fatemi sapere tutto nei commenti io spero di non avervi annoiato di avervi tenuto compagnia e di avervi perché no dato un ulteriore spunto di riflessione per il momento è tutto vi saluto qui ma noi ci vediamo presto al prossimo video